Le truffe e le frodi informatiche hanno visto tra il 2020 e il 2021 una vera e propria impennata legata alla sempre maggiore importanza degli strumenti digitali nelle imprese, ma non solo. Virus, phishing, furti di identità e acquisizioni di conti correnti bancari. Il fenomeno è ampio e molto variegato e anche in Abruzzo ha visto numeri corposi con oltre 5.400 truffe o frodi denunciate alle autorità di polizia solo nel 2021. Stando ai dati condivisi da confartigianato Chieti-L'Aquila, l'Abruzzo ha visto una crescita di 6,7 punti percentuali che se sembra irrisoria rispetto al dato nazionale, cresciuto nello stesso periodo di oltre il 18%, è comunque una prova della rapida impennata del fenomeno. I dati peggiori si sono registrati in provincia di Chieti dove la crescita registrata è pari al 10,8%. Seguono Pescara e L'Aquila con valori rispettivamente di più 7,2% e 7,1%, mentre chiude Teramo con un aumento di un solo punto percentuale. La crescita del fenomeno ha spinto confartigianato Chieti-L'Aquila a organizzare un seminario gratuito che si terrà martedì 19 marzo alle 14.30 nella sede di Academy for Me in via Filippo Masci 32 a Chieti. Il seminario, come ricordato dal direttore Daniele Giangiulli, è volto a diffondere nel tessuto aziendale abruzzese una cultura della sicurezza informatica, fornendo risposte e soluzioni concrete sul tema.